eccoci ragazzi in partenza per questo secondo giorno secondo giorno di sardegna oggi si parte d'alghero e farò la prima strada abbastanza interessante anche se comunque sono state interessanti anche le strade fatte ieri ma dovrebbe essere una strada abbastanza famosa ovvero l'alghero bosa l'ho segnata sul tracciato quindi dovrebbe essere una strada è comunque conosciuta come una strada bella quindi andiamo a fare questa alghero bosa qua ragazzi siamo ad alghero non è male bella cittadina ma qua c'è l'ho segnata carina come città oh che bello bello visti alberelli qua che storia che storia ciao bella ciao bella ok ragazzi parte l'alghero bosa finito siamo sono appena uscito da alghero e qua si parte già con le fischi spettacolo spettacolo di prima mattina così wow madonna santa spettacolo che strada no ma è spettacolare no ma è spettacolare ma se sono 40 km così basta c'è non si può se non dire le parole là c'è vero di cosa stiamo parlando vi cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando va qua qua c'è da fare la foto c'è da fare la foto vai 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 si riparte foto fatte video poi prima di arrivare a Bosa ci si ferma ancora perché se sono 40 km così ragazzi spettacolo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.